Purtroppo continuo a fare degli errori, tipo quello di essere estremamente dettagliato su tutti gli aspetti e di continuare bene. Quello giorno lì degli errori... Un bel video, che vuole? Anche l'altro, aveva messo neve e io lo sento... Grande logo! Grande, eh! ...allora ti chiederà sicuro. Qua c'è la bottiglia, ma... Dio, questa macchinetta! Non ufficiale, ma non sono delle miglia o meno... Tipo Skype, per esempio per la montagna, per la montagna, per l'estate per il mare... No, no, ti prego, carissima... ...merciana... Sì, però voglio dire, la gente... Te l'hanno mai detto che io mi vergogno? Metti quello che ci metta a 70%... Te l'hanno mai detto che io mi vergogno? Ti vergogni? Un casino, guarda... Di che cosa? Di tutto! No, dai! No, non ti metto mica su internet, è un video questo, eh! Non lo metto, non lo metto su YouTube solo! Scherzo, scherzo! Manda per me che dopo lo monto io! Te lo mando? Te lo mando? Non mi riesco a mandare il mio mail? Si potrebbe, però non sono registrato, lo faccio tramite il computer... Lo scarico nel PC, poi te lo mando... Dopo riesco a metterci la musica solo? Vabbè, sì, così... E la cosa? E la cosa? E la... E la... E la... 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 Ma no, cosa... Cos'ha da... da dire su questa giornata bellissima, magnifico perché a te ti viene? vai vai che tanto la mia mamma mia qui Golda di qualcosa di Cis saluto a fine tardi mentre bevo stava bene ma anche stavate Stefano come faccio vieni con la faccia sempre con la faccia lessa no come? no ma non è una foto è un video 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 se ne parano non ne faccio più di 20 cm dobbiamo fare un video sì sì ma ci si sono dopo è un 100 e 7 ma è più su la mia mamma è più su 100 e 22 qui? 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 No, siamo a 110, c'è... Ah, oh! Ci suonano 200 metri! Quando piove, questa internazionetica delle voce... E lì poi conta anche che sei infioffato... C'era un po' di polemiche! Puri polemiche, vai, vai con le polemiche! Ma come sta? Chi? Il panetto! Lì avete aperto le altre comunitarie! Ah, ma adesso non mi piace! Adesso fa un po' come ce l'hanno conquistare anche la giornata! Mardini ha fatto la festa in carnevale! Anche il caro di comunitario! Sì, sì! Da noi si è scappato! Adesso ci sono duecento al Parisi! Ci sono rimasto a 40 perché... C'è la roba del caso! Cioè, ovviamente... Ma non è perché non trova un lavoro! Voro che si sta bene! Voro che si sta bene!